Ne soffron lecchese su cinque, rigurgito e bruciore, i sintomi principali di questa patologia che si manifesta anche tra i più giovani. Il riflusso gastroesofageo è spesso provocato da stili di vita sbagliati, sedentarietà, fumo, alcol, ma anche lo stress e l'ansia sono fattori che possono contribuire a scatenarlo o peggiorarlo. I medici dell'Aigo, Associazione Italiana Gastroenterology ed endoscopisti digestivi ospedalieri suggeriscono come gestire il problema durante le vacanze, quando abitudini igieniche e alimentari possono cambiare per il caldo o una trasferta in un luogo di villeggiatura. Il periodo estivo è sicuramente un periodo un po' particolare nella serie. Un paziente che ha già una nota malattia da riflusso giustamente spera in questo periodo di poter godere di una buona salute, andare a fare un bel bagno o piuttosto che una passeggiata in montagna. Tuttavia non deve dimenticarsi di portare con sé quelle medicine che usualmente impiega la malattia da riflusso, si intende quindi il rigurgito, si intende un bruciore che risale fino a livello dello stomaco e più su fino a livello sternale. Ecco questi sintomi si possono ripresentare anche se uno è in vacanza, quindi è una cosa opportuna il munirsi di quei medicinali che normalmente controllano questi disturbi. Quali sono i cibi da evitare? Perché il riflusso si può curare con i medicinali ma ci sono anche alcuni accorgimenti a cui bisogna assolutamente fare attenzione. Sicuramente l'alimentazione può incidere in maniera determinante per riaccutizzarsi della sintomatologia. Pensiamo ad esempio a un classico bicchiere di vino, serale, piuttosto che cibi piccanti o un'ingestione di cibi molto grassi o abbondanti. Ecco tutti questi con il sovrappeso possono indurre un accentuarsi della sintomatologia e quindi se vogliamo prevenire questi disturbi dobbiamo certamente seguire delle norme alimentari adeguate, fare dei piccoli pasti, fare attività fisica. Sicuramente il periodo con meno stress è un periodo sicuramente utile per non avere particolari disturbi. Però non bisogna dimenticare che se sospendiamo la terapia rigurgito e pirosi possono ripresentarsi.